Puglia Film Commission Puglia Film Commission sono ospite di questo master nel quale ho potuto parlare e rappresentare ai discenti il senso del nostro lavoro da un lato e l'importanza di capire come funziona il mercato del cinema e dell'audiovisivo in Italia senza capire questo è impossibile anche solo pensare di poter fare una film commission infatti le film commission sono uno strumento a supporto della produzione audiovisiva e cinematografica ma non hanno il compito di sostituirsi al mercato e agli strumenti di finanziamento delle opere cinematografiche ma sono pensate come strumento a supporto e se si capisce questo si comprende quanto è importante per chi fa film commission conoscere benissimo il meccanismo di funzionamento del mercato audiovisivo nazionale e internazionale. Da questo punto di vista abbiamo visto con i ragazzi come funzionano i mercati europei e quello americano che sono ovviamente i due mercati più importanti e fatta eccezione per quello indiano e per quello incipiente della lontana Cina e poi abbiamo visto come funziona il mercato della distribuzione, il mercato dei diritti televisivi, la possibilità di remunerare un'opera cinematografica credo che ci sono tra questi ragazzi molti che hanno un'ottima possibilità di affermarsi in questo settore, ci devono credere, non si devono mai abbattere consapevoli che questo settore ha bisogno di nuovi talenti, di energie fresche e di persone che hanno in testa un'idea sana di produzione culturale. Grazie a tutti.